È stata un'esperienza bellissima, nel cuore mi porto tanta gioia, tanto divertimento, il tempo è passato molto velocemente ed è stata un'esperienza molto profonda ma anche molto leggera nello stesso tempo. Si arriva con un bagaglio sulla schiena e si ritorna leggeri senza rimorchio. Allora stavo bene prima di partecipare però adesso sto decisamente meglio, è proprio una questione di leggerezza, di più connessione con la natura e con me stessa. Io in effetti ho un progetto di vita importante, a volte mi spaventava mentre adesso non vedo l'ora di tornare a casa per impegnarmi a manifestarlo e realizzarlo. Una volta a casa comincerò a realizzare, a lavorare, a impegnarmi, a portare a termine le intenzioni e gli obiettivi che mi sono posta. Leggerezza, grazie Patti, grazie, 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 ti voglio un mondo di bene. Grazie.